Dieci piccoli indiani, capitolo sedicesimo. Passarono secoli. Mondi interi ruotavano e ruotavano. Il tempo si era fermato. Restava immobile, passando attraverso migliaia di secoli. No, era solo un minuto. Due persone fissavano un uomo morto. Lentamente, lentissimamente Veraclayton e Philip Lombard sollevarono il capo e si guardarono negli occhi. Lombard rise. Allora è così, vero? Non c'è nessuno sull'isola. Assolutamente nessuno, oltre noi due. La voce di lei non era che un sussurro. Precisamente. E così sappiamo a che punto siamo, no? Vera si chiese ad alta voce. Ma come ha funzionato quel trucco dell'orso di marmo? Lui si strinse nelle spalle. Un gioco di prestigio, mia cara. Un ingegnosissimo gioco di prestigio. I loro occhi si incontrarono di nuovo. Perché non ho mai osservato bene il suo viso? Un lupo. Ecco cos'è. Un viso da lupo. Quei denti orribili. Lombard disse, e la sua voce era un ringhio carico di minaccia. Questa è la fine, lo capisce. Ora siamo arrivati alla verità, ed è la fine. Vera replicò calma. Capisco. Fissò il mare. Così aveva guardato il mare il generale MacArthur. Quando, solo ieri, o il giorno prima, anche lui aveva detto, questa è la fine. Lo aveva detto con rassegnazione, quasi con sollievo. Ma quelle parole, il solo pensiero della fine, incitavano Vera alla ribellione. No, non sarebbe stata la fine. Guardò il morto. Povero dottor Armstrong, mormorò. Lombard fece una smorfia. Che sarebbe questa, pietà femminile. Vera replicò. Perché no? Lei non ha nessuna pietà. Non ho pietà per lei, ribatte Lombard. Non si illuda. Vera guardò di nuovo l'affogato. Dobbiamo toglierlo da qui, portarlo in casa. Per raggiungere le altre vittime, suppongo. Deve essere tutto in ordine. Per quanto mi riguarda, può restare dov'è. A ogni modo, tiriamolo fuori dall'acqua. Lombard rise. Come vuole. Si chinò, affaticandosi a tirare sulla roccia il corpo inanimato. Vera si chinò accanto a lui per aiutarlo. Spinse e tirò anche lei con tutte le sue forze. Lombard ansimò. Non è un lavoro facile come sembra. Ma riuscirono a tirare il corpo oltre la linea dell'alta marea. Mentre si raddrizzava, Lombard domandò ironico. Soddisfatta? Sì, soddisfatta. Il tono di lei lo allarmò. Si girò di scatto, mentre si infilava la mano in tasca, sapeva già che l'avrebbe trovata a vuota. Vera si era allontanata di un paio di metri e lo affrontava con la rivoltella in pugno. Questo, dunque, disse Lombard, era il motivo della sua sollecitudine. Voleva farmi il classico borseggio. Vera annui. Puntava l'arma, sicura e senza tremare. La morte era assai vicina a Philip Lombard. Mai gli era stata più vicina. Però lui non si considerava ancora battuto. Mi dia quella rivoltella, disse aggressivo. Vera rise. Su, me la dia, ripetè lui. Il suo cervello lavorava rapido, febbrile. Come reagire? Parlarle? Darle un senso di sicurezza? O affrontarla con un balzo veloce? In tutta la sua vita Philip Lombard aveva sempre scelto la via più rischiosa. Così avrebbe fatto ora. Le parlò lentamente, in tono persuasivo. Mia cara ragazza, stia a sentire. E spiccò il salto. Rapido, come una pantera, come un animale da preda. Automaticamente Vera premette il grilletto. Il corpo di Lombard parve gravitare un attimo a mezz'aria, poi si rovesciò pesantemente al suolo. Vera si fece avanti, cauta, la rivoltella sempre puntata. Ma non erano necessarie precauzioni. Philip Lombard era morto, colpito al cuore. Un profondo sollievo la pervase. Un immenso, dolce sollievo. Era finita, finita. Non più paura, non più tensione di nervi. Era sola sull'isola. Sola con nove morti. Ma che importava? Lei era viva, seduta lì. Finalmente felice, in pace, senza più paura. Il sole tramontava, quando Vera si mosse. Era rimasta immobile fino ad allora, soltanto per una reazione istintiva. Non c'era posto in lei, se non per quel senso di sicurezza. Ora sentiva ad avere fame e sonno, specialmente sonno. Voleva gettarsi sul letto e dormire, dormire, dormire. Domani forse sarebbero venuti a salvarla, ma non le importava di rimanere lì. Non adesso che era sola. Oh, pace benedetta. Si alzò in piedi e lanciò un'occhiata alla casa. Non aveva più niente da temere lì. Non più terrori in agguato. Era soltanto una normale casa costruita nel più moderno stile architettonico. Eppure poco prima, quel giorno stesso, non aveva potuto guardarla senza fremere. Paura. Che strana cosa la paura. Beh, ormai era finita. Aveva vinto. Aveva trionfato sul più mortale dei pericoli. Con la sua prontezza di spirito e la sua destrezza aveva cambiato le carte in tavola a colui che voleva distruggerla. Si incamminò verso la casa. Il sole tramontava, e il cielo occidente rastriato di rosso e di arancione. Era molto bello e pieno di pace. Potrebbe essere un sogno, pensò. Era stanca, terribilmente stanca. Aveva tutto il corpo induelenzito e le palpebre pesanti. Non aveva più nulla da temere. Doveva solo dormire adesso. Dormire. Dormire tranquilla, perché era sola sull'isola. Un povero negretto rimasto solo. Sorrise. Entrò dalla porta principale. Anche la casa sembrava stranamente piena di pace. Vera pensò. In altre circostanze non mi piacerebbe dormire dove c'è un morto in ogni camera. Doveva andare in cucina a mangiare, oppure dormire e basta. Poi decise di no. Era davvero troppo stanca. Si fermò sulla porta della sala da pranzo. C'erano ancora tre negretti di porcellana in mezzo alla tavola. Vera rise. Voi siete un anacronismo, miei cari. Prese due statuine e le gettò dalla finestra aperta. Le udì frantumarsi sul terreno. Prese la terza e la tenne in mano. Tu puoi venire con me, disse. Abbiamo vinto, tesoro. Abbiamo vinto. Nel vestibolo c'era già la penombra del crepuscolo. Vera, quella statuina in mano, cominciò a salire le scale. Lentamente, perché a un tratto le gambe le si erano fatte pesanti. Solo il povero negretto... com'era l'ultimo verso? Oh sì! Si sposò, e poi non ne rimase nessuno. Sposare. Strano. Ma improvvisamente ebbe ancora la sensazione che Yugo l'aspettasse, di sopra. Una sensazione molto forte. Sì, Yugo l'aspettava di sopra. Non fare la sciocca, si disse. Sei così stanca che immagini le cose più assurde. Saliva lentamente le scale. Quando fu in cima qualcosa le sfuggì di mano, facendo appena un rumore sul tappeto. Non si accorse che aveva lasciato cadere la rivoltella. Era solo conscia di tenere in mano la statuina di Porcellana. Com'era silenziosa la casa. Eppure non sembrava una casa vuota. Di sopra Yugo l'aspettava. Solo il povero negretto. Ma com'era l'ultimo verso? Qualcosa su lui che si sposava? O qualcos'altro? Era giunta alla porta della sua camera. Yugo l'aspettava lì dentro, ne era sicurissima. Aprì la porta. Le si mozzò il respiro. Che cosa pendeva dal gancio sul soffitto? Una corda col cappio pronto, e sotto c'era una sedia che poteva essere respinta con un calcio. Era questo che Yugo voleva. Del resto diceva proprio così l'ultimo verso della finastrocca. A un pino si impiccò, e nessuno ne restò. La si infranse contro la grata del caminetto. Come un'automa, Vera avanzò. Questa era la fine. Qui, dove la fredda mano bagnata, la mano di Cyril naturalmente, le aveva toccato la gola. Puoi nuotare, Cyril, fino allo scoglio. Era dunque questo l'assassinio. Com'era facile commetterlo. Ma dopo c'era il ricordo implacabile. Vera salì sulla sedia, con gli occhi fissi nel vuoto. Si mise il cappio al collo. Yugo era lì, a vedere che lei facesse quello che doveva fare. E Vera respinse la sedia con un calcio.